Ciao bambini! Per fortuna siete arrivati voi ad optarmi. Dobbiamo sistemare la scrivania di TopoTip perché c'è un gran disordine. Bene, iniziamo dalle matite. Sono tutte fuori dall'astuccio. Mettiamole dentro! Adesso sono dentro l'astuccio. Anche gli animaletti gommosi sono tutti fuori dalla scatola. Mettiamoli dentro! Adesso sono dentro la scatola. Sistemiamo i libri. Vediamo un po'. Oh! C'è qualcosa sotto a questo libro. Vediamo cosa c'è. Sotto al libro c'è un calzino. Questo va in lavatrice. Mettiamo in ordine tutti i libri e li mettiamo sopra la scatola. Guardiamo un po' i peluche adesso. Sotto a questo peluche c'è qualcosa. Vediamo cos'è. E' un bellissimo disegno. Mettiamolo qui. Sistemiamo tutti i peluche davanti alla scatola. Perfetto. Mettiamo l'astuccio sopra il disegno e il temperino lo mettiamo dietro l'astuccio. Ecco. Adesso la scatola di merito pro tip è tutta sistemata. Mi raccomando, tenete in ordine anche la vostra. Ciao! Ciao!